Siamo qui con Gigi, grandissimo tifoso di Marco Pantani, amico della famiglia Pantani. Gigi, tu che ricordo hai di Marco? Sono i ricordi sono infiniti perché, come dico, ho fatto per 3-3 anni il mototipista dietro le corse. Allora dopo, in un modo e in un altro, vieni a imparare e a conoscere il campionato, cioè di Marco Pantani, ho avuto dei ricordi che sono arrivati ormai a 80 anni, faccio fatica a smettere, non dovrei smettere, però ci vuole una costanza perché bisogna andare a Milano, bisogna andare a Londra con la macchina e il campionato, insomma tante cose, tutto questo perché si segue, abbiamo seguito un campionato, un grande campionato che ha lasciato, stracciato i posti, tutti i ciclisti, come tifosi e siamo rimasti legati, non ce ne accorgiamo e ce ne ricordiamo che siamo rimasti legati a Marco, perché? Perché quello che ha fatto è difficile dimenticare, che non dobbiamo dimenticare e andiamo avanti e ogni volta che fanno queste recorrenze qui ci si cresce nel senso di dire viva Marco e forza Marco. Grazie Gigi. Grazie, grazie, grazie.